La prasmissione di questa sera sarà un po' più originale delle altre perché vorrei dare l'idea della potenza di Dio e anche della potenza del demonio, ma soprattutto dell'onipotenza di Dio. La potenza del demonio, sotto cui purtroppo sulla cui egida siamo nati dopo la colpa originale. San Paolo, raccontando alla re Agrippa la sua conversione, ripete le parole che il Signore gli aveva detto al momento di convertirlo «Ti mando ai pagani per aprire loro gli occhi perché si convertono dalle tenebre alla luce, dal potere di Satana a Dio». Quindi vuol dire che noi, i non battezzati, sono sotto il potere di Satana, perlomeno ne hanno il gravissimo rischio e hanno bisogno di esserne sottratti. Sconfitto da Cristo, Satana lotta contro i suoi seguaci e il Vaticano II si ricorda che tale lotta degli spiriti maligni per cui continuerà fino all'ultimo giorno, Gaudium Spes numero 37, per cui il Signore ha conferito un particolare potere prima ai dodici apostoli, poi ai settantadue discepoli e poi a tutti quelli che credono in Lui. Poco per volta ne stiamo un po' sempre trattando, certe cose le ripeto perché mi sembrano essenziali e allora non ho nessuna vergogna a ripetermi. Testimonianza, chi è Satana? Chi sono i demoni? Noi sappiamo molto poco del mondo invisibile, ancora almeno del mondo invisibile. Sappiamo poco già del mondo visibile e si fanno continue scoperte nuove. Ma sappiamo ancora meno del mondo invisibile, per cui fa molto comodo anziché indagare, negarne l'esistenza. E così pure ci accorgiamo di negare l'onnipotenza e la sapienza di Dio che tutto ha creato con una maestosità inconcepibile alla mente umana, con un ordine perfetto, con dei fini precisi. Quando mi si interroga sul numero degli angeli, io sono solito citare l'Apocalisse che parla di miriadi, di miriadi, di miriadi, di angeli, un numero immenso, incomprensibile dalla nostra mente. Quando mi si parla sul numero dei demoni, mi viene subito in mente quando Gesù ha interrogato l'indemoniato di Gerasa, come ti chiami? E lui ha risposto, mi chiamo Legione, perché siamo in molti. La legione era di trecento soldati, perché siamo in molti. Le parole del demonio, quando disse per mezzo di un posseduto a padre Candido, che gli parlava, gli chiedeva il suo numero, Se noi fossimo visibili, siamo tanti che oscureremmo il sole. Ecco perché anche Paolo VI, nel suo famoso discorso sui demoni del 15 novembre del 72, parla non di un demonio, ma di una moltitudine di demoni. Sono una moltitudine. E per dare una pallida idea della grandiosità del creato, notate che anche i demoni sono stati creati da Dio come angeli, angeli buoni. Dio ha creato solo angeli, ha creato solo cose buone. Poi per colpo loro si sono pervertiti e sono diventati dei demoni, ma Dio li aveva creati angeli buoni. Dio ha creato questa moltitudine immensa, immensa di angeli. Per dare un'idea alla grandiosità della potenza di Dio nel creato, ecco, io parto da qualche cosa di sensibile, perché noi è attraverso il sensibile che arriviamo a Dio. «Ovunque il guardio giro, immenso in Dio ti vedo, l'opera tua e t'ammiro ti riconosco in me». E attraverso le sue opere che noi vediamo, le opere sensibili, il creato, la creazione, è da lì che noi deduciamo che esiste un creatore, che esiste Dio, che fa le cose bene, con ordine, alla perfezione. Come possiamo immaginare la potenza di Dio? Ecco, vorrei darvene un piccolo esempio partendo da una considerazione. «Vi invito questa sera a guardare il cielo». Oh, naturalmente, per quello che vi dico, mi sono fatto aiutare da un professore universitario, perché sennò io non ci arrivavo di sicuro a darvi quelle cifre che adesso vi do. «Riflettere sui corpi celesti che ruotano nel cielo». Un astronomo potrebbe assai meglio di me illustrare queste meraviglie dell'universo. Ecco perché uno di loro ha affermato «Io non credo, io vedo». Ossia, attraverso la contemplazione degli astri celesti, vedo Dio, vedo Dio dal creato, vedo il creatore, lo penso. Capisco che c'è un creatore, dall'ordine che c'è nel creato, un ordine immenso. A rifletterci si resta sbalorditi. Pensate che tutto l'universo è retto da forze collegate tra loro con una sapienza perfetta. Ad esempio, la Terra tiene legata a sé la Luna con una forza d'attrazione, senza però che questa le caschi addosso, perché c'è un'altra sapiente legge centripeta che fa sì che la Luna ruoti intorno al nostro pianeta, senza caderci sopra, benché ne sia tratta, benché ne sia tratta. Voi vedete che sapienza, anche in questo semplice esempio che tutti conosciamo, che tutti vediamo, perché il cielo è tutto un movimento. O guardate, il sistema solare fa parte, a cui apparteniamo noi, fa parte di una galassia che è composta da miliardi di corpi stellari. Noi sappiamo che questa galassia, tutti questi corpi, sono tenuti uniti da un centro di attrazione e non si vurtano tra di loro, pur essendo miliardi di corpi celesti. Un centro di attrazione che gli astronomi collocano circa a 30.000 anni luce dal sistema solare. Oh, vedete subito che qui non contiamo i metri, non contiamo i chilometri di distanza. Qui per poter misurare bisogna calcolare gli anni luce. 30.000 anni luce dal sistema solare. C'è l'assa della nostra galassia che è di circa 90.000 anni luce di dimensioni. È una dimensione sconvolgente. Eppure, vista da lontano, alla distanza di qualche milione di anni luce, guardate che distanza, la nostra galassia, che contiene quindi miliardi, miliardi, miliardi di corpi celesti, appare appena come un punto luminoso, solo un punticino. Guardiamo il cielo e di questi punti luminosi ce ne sono ovunque, un'infinità smisurata. Non se ne conosce nel principio e nella fine. Nel principio e nella fine. Noi vediamo tantissime altre galassie a quelle distanze enormi. Quante? È impossibile dirlo. Guardate che potenza di Dio, la potenza di Dio, di creare questo numero immenso di astri di cui ci dice la Bibbia Lui conosce il nome di tutti i corpi celesti uno per uno, pur essendo miliardi, 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 come ama ciascuno di noi, uno per uno, anche se siamo in tanti. Ci è impossibile dire quante sono le galassie. Gli astronomi vorrebbero individuare il centro dell'universo. Vorrebbero poter identificare il punto centrale di gravitazione intorno a cui girano, ruotano tutti i corpi celesti che sono tutti in movimento. Per ora sono dovuti accantare di avanzare solo delle ipotesi. non sono riusciti a trovare niente di sicuro, nessun punto d'appoggio. Tutto questo che noi ammiriamo nel sistema cosmico, così immenso, miliardi, miliardi di corpi celesti che ruotano intorno a altri corpi celesti che girano intorno a loro, questi sistemi. Ecco, mentre ammiriamo quest'immensità, altri scienziati ammirano il coordinamento degli atomi, dell'immensamente piccolo, per cui non vediamo la creazione di Dio così grande, così potente, che si manifesta nell'immensamente grande, nel cielo stellato, nell'immensamente piccolo, nell'atomo. Se l'ordine materiale ci svalordisce, che cosa dire allora dell'ordine spirituale? Quel Dio che ha creato con ordine mirabile e con leggi stupende miriade e miriadi di corpi celesti, con questa sua stessa onnipotenza e sapienza, ha creato prima di tutto miriadi e miriadi di spiriti celesti. E qui c'è qualcosa di nuovo, perché ha creato spiriti intelligenti e liberi, non come i corpi che sono passivi, materiali, no, miriadi e miriadi di angeli. La Bibbia ci parla di nove core angelici, i padri e gli scolastici hanno studiato e scritto tanto su questa immensità del creato. I teologi moderni si occupano di sociologia, non si occupano più di religione. eppure anche tra gli spiriti celesti regna un ordine, una gerarchia, un fine intelligente, dato che qui si tratta di essere intelligenti e liberi, un fine intelligente che è gioia, è felicità, è bellezza. Noi sappiamo, ad esempio, che a capo degli angeli c'è San Michele. Ossia c'è una gerarchia, c'è una gerarchia. Non sono miliardi e miliardi di angeli così a casaccio, senza un ordine. No, no, c'è un ordine perfetto. Tutto a lodo del Creatore. È opinione comune, deducibile dal racconto biblico, che Dio abbia creato prima gli angeli, poi il cosmo, la terra, e poi l'uomo. Il mistero della creazione del mondo materiale è certamente mirabile in quanto procede dall'onnipotenza e sapienza di Dio. Quando ha incominciato a creare i cieli, a creare i mari, a creare i monti, a fessare la profondità degli oceani, a creare il limite del mare, è così bello l'interrogatorio che Dio fa a Giobbe. Quando Giobbe, eh, poverello, era anche lui, gli erano scappati i cavalli a un certo momento. E allora Dio gli dice, ma chi sei tu? Sai dirmi quanto è profondo l'oceano? Sai dirmi chi è che ha chiuso i chiavistelli del mare e ha detto, oltre qui non passerai, non andrai più oltre. Ossia, tutte le misure della terra del creato. Di sicuro, però, ciò che ha creato quando ha creato il cosmo, il mondo sensibile, il suo significato, il significato del mondo sensibile, è avvenuto solo con la creazione dell'uomo. Perché? Perché solo con la presenza dell'uomo intelligente e libero che tutto il creato sensibile a cui l'uomo appretiene, noi apparteniamo al creato sensibile, si ricongiunge a Dio suo creatore. Pensate al cantico delle creature. Ecco l'uomo che può cantare le grandezze di Dio, che ammirando i cieli, ammirando gli oceani, ammirando gli alberi, gli uccelli, gli animali, può cantare la grandezza di Dio, cosa che prima non era possibile. L'uomo è creato a immagine e somiglianza di Dio. Essendo essere razionale, ha questa possibilità di ricongiungersi al suo creatore, di comunicare con Lui e di offrirgli, di presentargli, di dargli lode per tutta la sua creazione. Mentre il mondo materiale, pur avendo una sua origine da Dio, pur avendo un ordine perfetto, stabilito, pensate se una galassia si staccasse dal cielo e andasse ad attraversare il cielo, ma che sconquasso combinerebbe, che sconquasso, altro che se la luna cadesse sulla terra, altro che? E invece no, tutto è fatto per ordine, però non può godere il creato inanimato, non intelligente, non libero, non può godere di uno scambio diretto e immediato con il suo creatore, da cui dipende totalmente e passivamente. Il creato dipende passivamente da Dio, l'uomo no, Dio l'ha creato intelligente e libero, facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza. A questo punto proviamo a guardare dal punto di vista degli angeli quando hanno assistito alla creazione prima del cosmo e poi dell'uomo. quando hanno assistito alla creazione del cosmo di per sé non sono sottoposti per loro natura a un rapporto immediato con il mondo materiale e dinanzi alla loro intelligenza di mano in mano che Dio procedeva nelle creazioni non ne comprendevano lo scopo. erano puri spiriti ai loro occhi il mondo materiale non aveva senso non aveva un perché anzi appariva sempre più come un'assurdità un'assurdità fino a quando è comparso la creatura umana l'uomo che ha dato senso a tutta la creazione inanimata ha dato senso a tutta la creazione inanimata potendola riferire a Dio ringraziarne Dio goderne per ciò che Dio aveva fatto e quindi con una relazione immediata con Dio essendo un essere intelligente libero ero in grado di dare un significato a tutto il mondo materiale servendosene a lodo del creatore ecco perché Dio ha creato l'uomo e levamo soliti dire re dell'universo a te sottometto tutte le cose gli animali gli uccelli gli alberi le piante tutto sottomesso all'uomo perché solo l'uomo intelligente e libero rispetto al mondo creato si può pensare allora che la ribellione di una parte degli angeli sia precedente alla creazione dell'uomo noi vediamo subito il demonio che tenta Adamo ed Eva quindi vuol dire che c'era già stata questa prova a cui sono stati sottoposti i demoni una prova a cui non sappiamo dare una spiegazione sappiamo solo dire e questo con certezza che quella parte di angeli che si è ribellata si è ribellata per superbia si è ribellata a Dio si è ribellata a Dio quindi di fronte allo scandalo che vedevano della creazione del mondo materiale ossia prima che fosse completato e nobilitato dalla presenza dell'uomo forse potevano pensare che tutto fosse al loro servizio al servizio degli angeli invece no tutto a servizio dell'uomo e allora ecco che gli angeli ribelli non hanno lodato più Dio fin da principio ossia da quando egli è andato creando il mondo materiale dal punto di vista dei puri spiriti questo sembrava un assurdo non seppero dar credito alla divina sapienza un po' come accade a noi uomini di non dare a credito a Dio di fronte al problema del dolore di fronte al problema della sofferenza ma perché Dio lo permette ma perché Dio permette che tante persone delinquenti abbiano ogni prosperità ogni successo ogni glorificazione e tante persone buone siano calpestate siano nella miseria siano nella malattia perché ecco da qui un possibile motivo della ribellione degli angeli è uno dei motivi sappiamo certamente che è dovuto a un motivo di superbia anch'io interrogato varie volte sapete che quando si ha a che fare da parte di noi esorcisti con presenze malefiche rare ma che ci sono vere presenze del diavolo abbiamo dialogo col diavolo abbiamo dialogo col diavolo e quando ho chiesto al diavolo sei la più imbecille di tutte le creature lui che è intelligentissimo immensamente più intelligente dell'uomo immensamente più intelligente dell'uomo dico che cosa ti è servito tutta la tua intelligenza se prima eri in paradiso e adesso sei all'inferno se tu potessi tornare indietro che cosa sceglieresti e sempre mi hanno risposto farei la stessa scelta perché io ho avuto il coraggio di ribellarmi a lui ossia il demonio ritiene nella sua superbia veramente superbia diabolica che sia un atto di supremazia su Dio il fatto di essersi ribellato a Dio ho avuto la forza di ribellarmi a Dio quindi vuol dire che io sono più forte di lui sono più grande di Dio e il demonio cerca di convincere l'esorcista di essere lui più forte di Dio di essere lui più forte di Gesù Cristo ma quante volte me l'hanno detto ma vuoi sfidare Gesù Cristo sì sono più forte io vuoi sfidare la Madonna sì sono più forte io i più delle volte no e tacciono ma quando si ha a che fare con degli spiriti malefici di grande potenza hanno una sfacciataggine e allora voi capite l'eternità dell'inferno quando uno ritiene di essere più grande di Dio per il fatto di essersi ribellato a lui ritiene che quello sia il suo punto forte voi capite che mai ritornerà indietro a umiliarsi e a riconoscersi inferiore a Dio creatura di Dio creato fatto da Dio e quindi immensamente inferiore a Dio no nella sua superbia ritiene che il fatto di essersi ribellato sia un motivo di prestigio chi è Satana anche tra i demoni c'è una gerarchia come c'è tra gli angeli come c'è in tutta la creazione che è tutto ordinato ha tutto un ordine i fiumi che scendono verso il mare le nuvole che danno la pioggia gli alimentano di nuovo la neve che cade sui monti e poi d'estate alimenta d'acqua coi rivi d'acqua sciogliendosi tutto è in ordine anche tra i demoni c'è una gerarchia è una gerarchia strettissima ed è una gerarchia di terrore quante volte mi è capitato di dire a un demonio perché non te ne vai perché il mio padrone non me lo permette il suo padrone è Satana perché non te ne vai perché non me lo permette vuole che io stia qui vuole che io stia qui ubidienza cieca chi è Satana la tradizione rabbinica asserisce che era lo spirito di maggiore importanza davanti al trono di Dio dotato di dodici ali ossia il doppio di quelle degli stessi serafini i serafini sono i più nobili i più grandi i più importanti degli angeli eh i serafini hanno sei ali Satana aveva dodici la rappresentavano come dodici ali immaginiamo se la nostra galassia si ribellasse alle leggi che regolano il movimento incestante dei pianeti attraversasse il cielo sul scapriccio quanti miliardi di corpi trascinerebbe dietro di sé e quale grande sconquasso provocarebbe in tutto il firmamento ecco allora pensiamo questo sconquasso ha provocato nel mondo angelico la ribellione di Satana la ribellione di Satana ecco che i padri videro il principio della caduta di Satana nel suo orgoglio nel volersi inalzare al di sopra delle sue condizioni nel voler affermare la sua indipendenza da Dio di voler farsi credere Dio e di illudere tanti altri angeli che lui era superiore a Dio e allora l'hanno seguito altre spiegazioni sono state avanzate lunghi secoli però diciamo che il punto centrale è che il peccato dei demoni per cui da angeli sono diventati diavoli è stato un peccato di superbia e di ribellione a Dio sostanzialmente questo è esatto e questo è affermato da tutti in che cosa poi esattamente sia consistita questa prova noi non lo sappiamo certo che si è trascinato dietro una quantità di angeli che ribellandosi a Dio insieme a Lui sono diventati demoni e da qui l'implecabile inimicizia verso Dio l'odio vero odio verso Dio e dopo la creazione dell'uomo dato che l'uomo è finalizzato a Dio ecco che questo odio verso Dio si è rivolto verso l'uomo lo sforzo allora dei demoni di sottrarre l'uomo a questo scopo per cui è creato lo scopo di dare l'odio a Dio siamo creati per la gloria di Dio per dare l'odio a Lui ci insegnava il catechismo di Pio X per qual fine Dio ci ha creato per conoscerlo amarlo servirlo creati in funzione di Dio ecco che allora i demoni cercano di sconvolgere questo ordine per cui l'uomo è creato per Dio e cercano di sottrarlo al dominio di Dio e di trascinarlo nella loro caduta e nel loro regno il regno di Satana regno di Satana che è un regno tremendo a cui Cristo ha contraposto il regno di Dio ha distrutto il regno di Satana anche se continua persiste nelle sue conseguenze in parte e ha stabilito il regno di Dio Satana Satana era quindi la creatura principale creata da Dio il principe di tutta la creazione è una volta che si è ribellato a Dio coscientemente con tutta la pienezza del suo essere della sua volontà con una rivolta totale perfetta ecco che non ha ritorno è diventato l'essere più lontano da Dio quel peccato di ribellione è rimasto inerente alla sua essenza e rimarrà tale per l'eternità la Bibbia lo indica con vari nomi lo chiama Satana Lucifero forse ci metto un forse perché a dire la verità la parola Lucifero la troviamo solo nella traduzione dei settanta della volgata a proposito del re di Babilonia non a proposito di un demonio ma ci sono certi nomi che hanno una tradizione quasi biblica anche se non sono nella Bibbia per esempio spesso ho incontrato tra i demoni un demonio che non ha altro che il nome di una delle tribù di Israele Zabulon nella Bibbia Zabulon è solo una delle tribù di Israele eppure spesso incontriamo un demonio che dice Zabulon la Bibbia ci parla di Bezebul ci parla di serpente antico ci parla di dragone rosso erco varie denominazioni ma forse il nome più esatto che gli si addice e qui i teologi possono direi sbirazzirsi il mio grande maestro padre candido riteneva che il nome più adatto al demonio fosse bestemmia ossia ribellione totale a Dio contrarietà assoluta a Dio padre Livio ha preferito chiamarlo il falsario colui che falsa e in questo suo libro il falsario dimostra una conoscenza molto fine e profonda dei metodi di Satana per far cadere l'uomo nel peccato a dire il vero a me piace un nome io lo chiamo Signor non è vero guardate la tentazione ad Adamo e Deva dice subito il demonio il serpente ad Eva perché non ne mangiate perché Dio ci ha detto che se ne mangiamo moriremo e il demonio cosa dice non è vero non è vero che morirete non è vero anzi sarete simili a Dio tutto quello che Dio vi ha detto non è vero le leggi che Dio vi ha date non sono vere il peccato ma che peccato è esperienza non è vero che sia peccato non è vero che sia male il grande ecco perché è veramente un falsario il grande sforzo di Satana è di far apparire il male come un bene di far commettere il male come una conquista come un guadagno come un successo come un imparare qualcosa di nuovo io lo chiamo il Signor non è vero ossia nega tutto ciò che Dio afferma prima di tutto l'esistenza e le leggi di Dio quali sono state le conseguenze di questa ribellione Satana per il primate l'autorità che godeva ribellandosi all'ordine morale spirituale di Dio si è trafinato dietro quasi un sistema planetario ecco gli angeli che hanno voluto seguirlo con piena intelligenza e libertà e ora cerca di trascinare dietro più uomini che può anche questi con piena conoscenza e libertà notate il demonio è immensamente più intelligente di noi è immensamente più furbo di noi è immensamente più saggio di noi ci dice san pietro come leone ruggente si gira intorno cercando chi divorare cerca il punto debole cerca il punto debole aiutato da due elementi di cui lui cerca di sfruttare per far cadere l'uomo nel peccato aiutato dalle ferite originali dell'uomo per cui l'uomo ha già di per sé delle tendenze al male che deve frenare con la sua volontà deve vincere con la sua volontà e poi ha le tentazioni che vengono dal mondo che vengono dall'ambiente e il demonio cerca di sfruttare le tendenze cattive dell'uomo con le occasioni in cui l'uomo si può trovare per farlo cadere nella colpa gli angeli sono scaduti in questo tranello sono caduti e sono diventati demoni con piena conoscenza e libertà e Dio non rinega mai le sue creature sarebbe come un rinegare se stesso per cui la potenza che Satana aveva la possiede ancora era capo della creazione e lo sarebbe ancora ecco perché è stata necessaria l'incarnazione del verbo l'uomo con le sue forze non avrebbe potuto sconfiggere Satana noi da soli siamo più deboli del demonio noi con Gesù siamo immensamente più forti di lui il demonio è stato vinto da Cristo e noi lo vinciamo se siamo uniti a Cristo che è venuto come ci dice San Giovanni Cristo è venuto per distruggere le opere di Satana per ricapoidalare tutte le cose con il sangue della sua croce quelle celesti e quelle terrestri ecco chi è il vero re il vero sovrano è Cristo Cristo vince Cristo regna Cristo impera ma come è necessario essere uniti a Cristo per vincere le tentazioni del demonio se non lui ci soprafa è più forte di noi se noi siamo uniti a Cristo se siamo uniti a Cristo come ci dice Zacomo resistete con fede a Satana e Satana fuggirà da voi fuggirà da voi abbiamo il sigillo della Trinità noi puoi che siamo battezzati e Satana ha paura di questo sigillo della Trinità che c'è in noi perché su noi li resistiamo è lui che fugge è lui che scappa mi è capitato di dire ad alcuni sacerdoti che hanno rifiutato la richiesta del loro vescovo di fare gli esorcisti perché più o meno pensavano nel loro subconscio se io il demonio lo lascio in pace lui mi lascia in pace se io lo stuzzico lui mi tormenta è un gravissimo errore più combattiamo Satana e più lui ha paura di noi più lo combattiamo più lui ha il terrore di noi ecco perché i santi non avevano mai nessuna paura di Satana tutt'altro e lo vincevano padre Pio che pur ha ricevuto tante volte il Signore ha permesso per la sua santificazione che ricevesse tanti disturbi da parte del maligno però poteva dire verso la fine della sua vita l'ho sempre vinto l'ho sempre vinto l'ho sempre vinto perché perché era unita a Gesù Satana rimane il principe di questo mondo per tre volte Gesù lo chiama principe di questo mondo e San Paolo addirittura nella prima ai Corinzi lo chiama Dio di questo mondo guardate che tener conto della forza di Satana per stare uniti a Cristo è giusto è un vantaggio non è un incutere il terrore di Satana non ho nessuna paura purché siamo uniti al Signore mentre invece se ci distacchiamo dal Signore quanta gente vedo anche qui in Italia lo sapete anche voi che non pregano più che non vanno più a messa è di moda dire sono credente ma non sono praticante e senza l'aiuto di Dio che si pretende che resistano alle tentazioni di Satana ecco allora lo sfascio delle famiglie ecco allora i peccati di aborto ecco allora gli omosessuali ecco allora tutte quelle pecche che noi riscontriamo nella nostra società perché 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 ci si è distaccati da Dio e dalle sue leggi si è ubbiditi a Satana si è andati dietro a Satana Dio è l'ordinatore del creato ha costruito tutte le cose con ordine Satana è l'implacabile distruttore di ciò che Dio ha fatto cerca di distruggere ciò che Dio ha fatto ecco perché anche l'istituzione del matrimonio così bella il demonio cerca di distruggerla in tutti i modi e voi sapete a che punto siamo arrivati qui in Italia io ricevo tante copie di sposi sono più le copie di sposi irregolari che le copie di sposi che hanno un matrimonio regolare è il distruttore Satana dell'ordine dato da Dio e è come il corrispettivo morale di quei buchi neri che esistono nel cosmo e che inghiottano la materia di cui ci parlano gli astronomi anche senza saperne dare una spiegazione e da qui ogni forma di male viene tutto dal demonio il peccato le malattie le sofferenze la morte e la fatica non erano nei progetti di Dio l'inferno l'ha creato il demonio non l'ha creato Dio lui non ci aveva neppure pensato mi disse una volta un demonio lui non ci aveva neppure pensato l'abbiamo creato noi e noi vediamo tante volte come sono gli uomini che si ammazzano tra di loro si scannano tra di loro non è Dio che li uccide si uccidono tra di loro la salvezza operata da Cristo ha reintegrato e vuole reintegrare l'ordine dell'universo in un modo ancora più meraviglioso di come era stato stabilito in origine ecco che la redenzione è il primo vero la redenzione è il primo vero grande esorcismo operato da Gesù Gesù è il primo degli esorcisti e da lui prende forza ogni lotta contro il demonio e perché la redenzione si applichi ad ogni uomo così da liberarlo dal potere del maligno ecco che occorre la grazia portata da Cristo e che questa grazia sia accolta andata in tutto il mondo l'abbiamo ripetuto domenica scorsa nella festa della Santissima Trinità rendete mie discepoli tutte le genti e battezzatele nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo il battesimo ci stacca ci libera dal demonio ecco perché nel battesimo è contenuto sempre un esorcismo sempre include un esorcismo nel frattempo il demonio continuerà la sua opera perché anche noi siamo messi alla prova il Signore ci vuole trattare da creature intelligenti e libere rispetta la nostra libertà anche di dannarci pur dandoci le mille occasioni per convertirci Dio non vuole la morte del peccatore ma che si converta e viva ci dà le mille lui ci ha creati tutti per il paradiso tutti per il paradiso vado a prepararvi un posto ha detto Gesù prima di ascendere al cielo ci ha creato tutti per il paradiso e come afferma il consiglio la lotta contro gli spiriti maligni continuerà e durerà come dice il Signore fino all'ultimo giorno dobbiamo forse aver paura del demonio no dobbiamo aver paura di staccarci da Dio di questo dobbiamo aver paura di allontanarsi da Dio di allontanarsi dalla preghiera di allontanarsi dai mezzi di grazia allora sì che diventiamo deboli e possiamo diventare preda del demonio di questo dobbiamo aver paura se no è il demonio che ha paura di noi grazie